Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, scusatemi se questo video è il secondo della giornata, scusatemi se sono nella stessa postazione, con la stessa maglia, insomma, ma lo sto registrando praticamente un'ora dall'uscita del primo di questa giornata. Mi sono accorto soltanto ora, con una notizia che ho letto sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, che Luca Castellazzi è diventato il nuovo team manager del Torino e si è quindi ritirato dal mondo del calcio un mese e mezzo fa, più o meno. Io non mi ero accorto di ciò, anche perché questa notizia è passata un po' troppo in sordina, mi avviso, e quindi ho pensato di fare questo video oggi, seppur avessi già fatto il video prima, per in un certo senso ringraziare Luca Castellazzi di tutto. E' stato un esempio di uomo, perché come uomo nessun tifoso li potrà mai dire nulla, con l'Inter, con il Torino, con tutte le squadre nelle quali ha militato, si è sempre comportato umanamente bene, benissimo. E' sempre stato a disposizione, è sempre stato il simpaticone, ma allo stesso tempo l'esempio dello spogliatoio, molto serio. Mi ricordo in un'intervista, Andrea Bellotti l'ha detto il più serio, è Castellazzi, ma mi ricordo che comunque non è mai stato un uomo così, che se tu magari fai una battuta, lui non ride, si arrabbia, no. Una persona veramente simpatica, allo stesso tempo appunto seria e straordinaria. Nonché un gran calciatore, perché a 40 anni ovviamente non si può fare chissà che cosa. Con il Torino non ha mai giocato, ma è stato in due anni l'esempio dello spogliatoio del Toro. In Serie A, diciamo, in un'annata come questa, che non è stata eccezionale, e in un'annata come la precedente, che è stata invece migliore, in un certo senso. Anche se il Toro non è arrivato effettivamente in Europa League, e due anni fa la giocava. Cosa posso dire a Luca? Lo ringrazio perché con l'Inter è stato molto importante. Si è trovato in delle situazioni molto complicate, ha dovuto sostituire in diverse circostanze, in determinate circostanze, un portiere come Julio Cesar, o Giulio Cesar la pronuncia ovviamente potete scegliere a voi, e l'ha fatto abbastanza bene in quattro anni, praticamente dal 2010-2011, 2013-2014. Poi Giulio se n'è andato e lui è diventato terzo portiere con l'arrivo di Andanovic a Carrizo. Carrizo è arrivato nel gennaio 2013, mentre Andanovic è nel 2012-2013 in estate. Ha fatto grandi parate, ha avuto anche dei momenti difficili, ma l'età stava cominciando a farsi sentire, perché è arrivato praticamente a 35 anni e quindi è ovvio che lui è del 75, quindi è ovvio che lui non sia più, diciamo, non siamo tutti buffon, ecco, lui non lo è mai stato, perché non è mai stato un fenomeno, però è sempre stato un ottimo portiere ed ha retto l'età anche a sufficienza per la media, considerando la media. Grazie di tutto Luca, in bocca al lupo per questo tuo nuovo incarico come team manager del Torino, spero ti possa trovare bene anche lì, perché ripeto, sei sempre stato una persona seria e ti troverai sicuramente alla grande. Noi ci vediamo nel prossimo video, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi, scusatemi ancora se questo è il secondo video della giornata, ma mi sono sentito proprio dentro di farlo. Noi ci vediamo appunto in un prossimo video, grazie di tutto Luca Castellazzi. Ciao ragazzi e forza Inter. Grazie a tutti.